ciao a tutti voi amici dell'italiano in podcast io sono paolo e questo è l'episodio numero 419 di venerdì 4 febbraio 2022 finalmente venerdì finalmente la settimana è finita ce l'abbiamo fatta anche questa volta abbiamo affrontato un'intera settimana di lavoro e adesso siamo arrivati all'ultimo giorno domani c'è un po di riposo anche per l'italiano in podcast e per paolo ovviamente ma immagino che anche per tutti voi sia un fine settimana per ricaricare un po le batterie ma prima di iniziare il fine settimana dobbiamo fare il nostro ultimo esercizio di ascolto e di comprensione quindi anche oggi sono qui davanti al vecchio microfono ieri ho provato quello nuovo oggi sono tornato a quello di sempre a quello delle 417 puntate dell'italiano in podcast e come sempre anche oggi sono pronto a cominciare la mia registrazione sono pronto a provare ad aiutare tutti voi nel vostro studio della lingua italiana questo è il mio contributo questo è il mio aiuto appunto ai vostri ai vostri studi registro per voi questo podcast ogni giorno per dare a tutti voi la possibilità di ascoltare un madrelingua che parla per qualche minuto e vi da un esempio vi da un esempio di come di come si parla qui in italia e anche oggi quindi come ho detto vi faccio compagnia per qualche minuto vi racconto un po la mia giornata e vi racconto anche qualche notizia dall'italia poche cose non molte in questi giorni c'è sanremo come sapete ne parliamo anche oggi e e poi infine dopo qualche notizia chiudiamo con l'aforisma del giorno prima dei saluti questo è il programma questo è il programma che ogni giorno ripetiamo da più di 400 giorni e questo è quello che faremo anche oggi prima di ricominciare come sempre il mio consiglio la mia piccola introduzione trovate un posto tranquillo un posto dove potete avere un po di silenzio e di concentrazione e a quel punto rilassatevi rilassatevi e concentratevi sulla mia voce sintonizzate le vostre orecchie sul mio modo di parlare e poi prendetevi tutto l'italiano che potete le parole nuove le espressioni i modi di dire ma soprattutto il significato il senso delle mie parole e del mio monologo come lo chiamo qualche volta se sfugge qualche parola se sfugge qualche piccola parte non vi preoccupate quando avete completato l'ascolto tornate indietro riascoltate cercate il significato se non lo conoscete e vedrete che poi questa nuova espressione questo nuovo modo di dire questa nuova parola diventeranno una parte del vostro modo di parlare in italiano questo è il lavoro che dobbiamo fare dobbiamo conoscere nuove parole e sedimentare vecchie parole o espressioni ovviamente sedimentare vuol dire farle rimanere bene nella memoria farle diventare qualcosa di davvero abituale e comune quindi questo è quello che provo a fare per voi dare una giusta dose di cose nuove e di cose vecchie diciamo che ripeto per farle restare nella vostra nella vostra memoria bene quindi se siete pronti e io so che sono che siete pronti possiamo anche iniziare con questo racconto di venerdì 4 febbraio 2022 come sempre comincio dal tempo come è stato il tempo in questa giornata oggi è stato un po più grigio quindi non c'è stato il sole dei giorni scorsi c'è stato un po di anzi c'è stato il cielo coperto da nuvole ma per tutta la giornata non è stato un problema in serata verso la fine della giornata appunto c'è stata un po di pioggia ma molto leggera ha solamente bagnato le strade il terreno ma non era affatto fastidiosa non era per niente abbondante una giornata ancora bella anche se coperta è un po grigia ma non era proprio grigia era era c'era luce non era una giornata scura oscura era una giornata nuvolosa ma con ancora luce e con il piacere di uscire fuori di casa è stata una giornata un po più calda dei giorni scorsi forse anche grazie alle nuvole non lo so è possibile ma comunque è stata una giornata in cui sono uscito come gli altri giorni e infatti dopo il podcast la mattina ho fatto qualche piccola commissione in casa e poi sono uscito sono uscito per la colazione e per una bella passeggiata sono uscito un po più tardi del solito e ho deciso di anticipare la mia passeggiata lunga quella che di solito faccio all'ora di pranzo al mattino proprio perché il cielo era un po scuro e in quel momento non pioveva il tempo non era così male e ho deciso di fare la passeggiata prima per non rischiare di non poter fare la passeggiata più tardi durante il giorno è stata lunga più di un'ora e il panorama dall'alto sul mare è sempre bello anche con il cielo coperto e quindi anche oggi la mia bella passeggiata mi ha regalato un po di calma e di tranquillità buone per iniziare la giornata e buone per essere produttivo ma in realtà però è stata una giornata facile anche oggi mi sono dedicato ad attività che non richiedono troppa concentrazione mi sono dedicato per esempio per una buona parte della giornata alle pulizie di casa era prevista una lezione all'ora di pranzo più o meno ma purtroppo è stata cancellata niente di grave ma semplicemente un imprevisto e quindi ho passato una grande parte della della fine della mattina e dell'inizio del pomeriggio a pulire la casa in particolare a mettere un po d'ordine su questa scrivania che guardo ogni giorno su cui lavoro ogni giorno era il momento di sistemare un po qualcosa il disordine era un po troppo a causa della mancanza di tempo e della mia pigrizia ovviamente anche quindi oggi mi sono occupato con calma di queste cose riguardato qualche documento stampato sulla scrivania insomma ho buttato molte cose e ho pulito un po tutto in mezzo a tutto questo c'è stato il pranzo e alla fine di tutto questo anche un pisolino si più o meno alla fine non più o meno alla fine di questo lavoro era presto c'era del tempo per fare qualcosa per esempio per il blog ma ho deciso di fare un pisolino e qualche volta ci sta è qualcosa che serve e quando mi sono alzato dal pisolino ho continuato a sistemare qualcosa non c'era molto tempo prima delle lezioni dell'inizio delle lezioni e quindi ho preferito continuare con un lavoro meno impegnativo che non richiede concentrazione ho fatto questo quindi oggi la giornata si può riassumere con mettere in ordine ho messo un po in ordine ed era l'ora era il momento quindi poi più o meno alle 6 del pomeriggio anzi esattamente alle 6 del pomeriggio sono ho iniziato la prima lezione della giornata un venerdì molto tranquillo come ho detto ho fatto tre lezioni la lezione è andata molto bene la prima è con un amico che conosco da tanto è una lezione ricorrente come sempre è stato interessante come sempre è stato anche divertente lo dico spesso questo è questo lavoro mi regala sempre anche molto divertimento perché sono curioso quindi quando le persone mi raccontano le cose mi spiegano cose che non conosco per me è sempre un piacere alla fine della lezione sono uscito perché il proprietario della della para farmacia in cui vado sempre tenete a mente questa differenza perché è importante se siete qui in italia una farmacia è il luogo in cui comprare acquistare vari farmaci ma in particolare quelli che hanno bisogno di una ricetta del medico cioè il medico deve scrivere questo documento in cui autorizza l'acquisto di questo farmaco di questa medicina questi sono farmaci e medicine più controllati ovviamente nella para farmacia invece si possono acquistare tutte le altre cose quindi dispositivi medici e soprattutto farmaci da banco i farmaci da banco sono quelle medicine che non hanno bisogno dell'autorizzazione di un medico quindi questo è molto importante se avete bisogno di un farmaco che vi ha prescritto il medico dovete andare in una farmacia nel mio caso si tratta di una para farmacia in cui compro dispositivi medici farmaci da banco e altre cose che possono servire perché la farmacia è un po più lontana dalla mia casa e quando non ho bisogno di medicina più controllate autorizzate dal medico vado in questa para farmacia che è di un amico di famiglia anche tra l'altro bene lui mi ha chiamato perché finalmente è arrivato il mio idropulsore nuovo questo idropulsore serve alla pulizia dei denti la mia dentista si è molto raccomandata di usare questo dispositivo non mi ha detto di farlo per forza con un obbligo ma mi ha molto consigliato di acquistare questo questo dispositivo per pulire meglio i miei denti ed è un dispositivo che si usa insieme allo spazzolino quindi si devono lavare i denti e poi si usa questo per una pulizia più accurata lei mi ha consigliato anche di andare in questa para farmacia perché lei ha un accordo con il proprietario per vendere questi idropulsori a un prezzo più basso per i suoi pazienti quindi finalmente è arrivato questo dispositivo e domani lo provo sicuramente ho deciso che è arrivato il momento di essere responsabile e avere una maggiore cura dei denti li ho sempre lavati ma la mia dentista mi ha spiegato che come molti forse non li ho lavati nel modo giusto quindi devo stare un po' più attento e imparare a lavarli e a pulirli meglio bene dopo questa questa piccola dopo questa piccola commissione sono rientrato e ho iniziato le ultime lezioni della serata prima ho cenato però quindi ho fatto una breve cena e poi gli ultimi due incontri molto piacevoli molto divertenti con persone che conosco da molto tempo una giornata semplice una giornata rilassante rilassante soprattutto perché è tornata un po di calma e tranquillità per me devo essere sincero nei giorni scorsi c'è stato qualche c'è stata qualche preoccupazione e finalmente in questi ultimi due giorni giovedì e oggi ieri e oggi sembra tornare il sereno dove è importante quindi tutto questo mi ha dato molta più serenità e sono sono contento sì che la settimana sia finita molto bene era iniziata con qualche problema ma per fortuna questi problemi si sono quasi risolti ma sono molto ottimista adesso e credo che presto tutto tornerà alla normalità anzi forse tutto sarà un po meglio bene questa è stata la mia giornata non è stata difficile o impegnativa come vi ho detto e poi soprattutto è stata una giornata in cui ritrovare finalmente un po di serenità dopo l'inizio della settimana un po turbolento con qualche turbolenza questo è un termine più da volo ma funziona bene anche nella vita bene vediamo un po invece cosa è successo in italia e cominciamo ovviamente da sanremo sanremo in questi giorni è la notizia quindi è sempre tra le notizie più importanti quarta serata la serata delle cover i cantanti in gara si esibiscono in coppia con altri cantanti che scelgono loro amici o collaboratori insomma devono esibirsi in alcune cover insieme a dei loro amici o colleghi cantanti è stata la serata di morandi e giovanotti giovanotti ha scritto la canzone per gianni morandi ed è arrivato oggi all'aristo nel teatro alistone per esibirsi insieme a morandi in uno spettacolo davvero molto esplosivo questa loro esibizione è stata a quanto pare incredibile molto carica con molta energia ed è arrivata su tutti i social è in pratica la parte di sanremo più vista e rivista dal pubblico italiano questa esibizione incredibile ha riportato gianni morandi nella parte alta della classifica al secondo posto infatti adesso la classifica è un po diversa ops scusate qualche rumore al primo posto non c'è più elisa 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 e adesso al terzo posto e al primo posto c'è mahmud e blanco scusate la pronuncia ma purtroppo non non so esattamente come pronunciare bene al secondo posto quindi al primo posto mahmud e in blanco e al secondo posto gianni morandi la gara è ancora molto aperta e ovviamente domani sabato c'è l'ultima serata e scopriremo il vincitore di questa di questo settantaduesimo festival italiano anche ieri ascolti molto alti anche ieri un buon successo di critica e di pubblico questo festival di amadeus sembra davvero piacere un po a tutti e ovviamente ice pick italiano fa gli auguri a questo simpatico presentatore e al suo amico fiorello compagno in questa avventura nel teatro ariston tutto qui per quanto riguarda sanremo sicuramente potete trovare molte notizie su sui nostri media su sui nostri siti internet potete approfondire anche da soli ovviamente vi racconto le cose più importanti vi racconto anche che c'è oggi c'è stata la camera ardente per monica vitti già spiegato che cosa è questa camera ardente è un luogo in cui viene sistemata insomma la bara di un personaggio molto conosciuto di un personaggio con molti parenti conoscenti e in questo caso con un personaggio famoso viene creata questa questo luogo in cui è possibile per tutte queste persone passare a dare un ultimo saluto prima dei funerali in questo caso è stata allestita questa camera ardente al campidoglio quindi nella sede del comune di roma come spesso accade per personaggi così importanti come monica vitti la sua questa sua camera ardente era piena di mimose e rose quindi una bella visione davvero ho la foto adesso davanti ai miei occhi e si è davvero una un buon posto dove salutare questa grande questa grande stella del cinema italiano così importante e con tanti grandi successi nella sua carriera per quanto riguarda le notizie non cobit un'ultima notizia gli studenti italiani sono arrabbiati gli studenti delle scuole superiori chiedono ancora oggi anche oggi di cambiare le regole sulla sull'esame di maturità quello per il diploma di scuola superiore insistono a chiedere un po' di comprensione per le condizioni non perfette in cui hanno studiato in questi ultimi due anni vedremo cosa decidere al governo ma credo proprio che sfortunatamente per loro gli esami rimarranno nella nella formula cioè si svolgeranno nel modo stabilito ma tutto può succedere e forse le loro in parte giuste richieste forse possono essere accettate accolte e quindi forse qualcosa può cambiare tutte qui le notizie non covid vi do solo il bollettino prima dei saluti finali oggi ci sono stati 99.500 nuovi positivi il tasso di positività è all'11,2 per cento e i vaccinati sono ormai quasi l'80 per cento in italia purtroppo ancora troppi morti 433 i decessi le persone che non ce l'hanno fatta ma sembra che la curva del contagio diminuisca ogni giorno e speriamo che presto questo incubo finisca per sempre con questo è tutto per le notizie quindi non mi resta che leggervi l'aforisma del giorno e di darvi poi l'appuntamento al prossimo episodio bene l'aforisma di oggi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali e chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita si tratta di un personaggio contemporaneo è un'idea che ovviamente mi piace e condivido il senso il significato di questo aforisma vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questo aforisma e con questo voglio chiudere questo episodio vi auguro un buon fine settimana vi auguro di passare dei giorni rilassanti l'appuntamento per noi è a domenica ma prima di salutare tutti voi voglio mandare un saluto speciale a jay perché è stata una settimana difficile ma alla fine è finita e tutto è andato bene o almeno tutto va nella giusta direzione e con questo è tutto quindi ci sentiamo la prossima volta per il momento saluto anche voi e ciao a tutti grazie 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 a tutti